Abbiamo qui Loretta Bravi che fa parte dei popolari Udc, sostiene Ceriscioli. Buongiorno Loretta, la prima domanda ancora prima di conoscerla, se mi permette, se mi puoi parlare di questa alleanza, per quale motivo appoggiate Ceriscioli? Questa alleanza è nata perché ci sono anni di storia, nel senso che alcune persone con le quali io mi relaziono politicamente da sei anni e anche di più, sono stati nel centro-sinistra, hanno lavorato sul fronte della famiglia, dei servizi sociali e quindi legata a queste persone io ho indirettamente fatto parte di un lavoro. Questo lavoro lo si vuole proseguire, quindi è stata una scelta, non dico obbligata, però devo fare una permessa. Io faccio parte di un piccolo partito che deve pur sopravvivere e deve fare un'alleanza. Si è scelto di continuare con queste persone che hanno già avviato un lavoro. Faccio nomi e cognomi, Luca Marconi, Luigi Viventi, questi qua hanno lavorato sul fronte dei servizi sociali, non hanno lavorato per una concezione dello Stato, quanto per una concezione di una società civile. Quindi questa è la prima motivazione, è quella di una continuità con il lavoro di queste persone. La seconda motivazione è che siamo in alleanze mischiate, non esistono identità, quindi io soffro tantissimo. Anche l'Udc ha avuto una diaspora, una diaspora che non è finita, assomiglia quasi a quella ebraica, ma altri partiti hanno la loro diaspora. In questo momento si è ritenuto opportuno proseguire questa cosa qua. Vorrei però aggiungere che io non vado nell'alleanza con Cericioli per fare da Cespuglio al PD. Io vado con i miei valori, vado con la mia storia e vado per la Loretta, per l'Udc e per il territorio. Bene, conosciamo Loretta. Lei chi è? Sono un'insegnante, fondamentalmente, una madre di famiglia, una moglie. Diciamo che il mio percorso di vita, ho 55 anni, è appartenuto alla politica indirettamente. Nel senso che ho lavorato su fronti interessanti, la cultura, l'ambito sociosanitario, ho lavorato su incontri riguardanti la genitorialità, l'adolescenza. Questo è il mio DNA. Nello stesso tempo ho ereditato la passione politica da mio padre, che era un cantoniere, quindi poteva, metteva a posto le buche, tra parentesi. Ho ereditato questa cosa da mio padre, sono appartenuta all'Udc da tanti anni, con molte riserve, ho avuto rapporti non facili con la dirigenza, con Roma, però credo che siamo fondamentalmente scollati e quindi questo è un problema un po' della base di tutti. Questa è la mia vita. Non ho fatto politica direttamente perché ho voluto, ho fatto un'altra scelta, che era quella di crescere i miei figli, di accompagnare i miei anziani in una cosa importante come morire, perché di queste cose non si parla mai. Ho studiato, ho scritto, ho fatto il dottorato, ma non vorrei fare l'elenco di quello che ho fatto, perché chi mi conosce lo sa già. In questo momento, diciamo che mi candido spinta da due cose fondamentali. La prima, chi me l'ha chiesto? Una persona che stimo molto, un ex ministro della difesa. E la seconda cosa, per i miei giovani, perché da trent'anni in una relazione quotidiana con i ragazzi, credo che abbiano bisogno di un traghettamento. Adesso ho più energie per farlo. Bene. Allora, prima di farle, allora c'è un piccolo prezzo da pagare in queste mittenti. Noi siamo, allora, definite, per non fare nomi, da Maiani, presidente dell'Unione Montana del Montefeltro, per chi, perché ci seguono anche, ovviamente, da fuori zona. E siamo la Galbanelli del Montefeltro, quindi una domanda gliela dobbiamo fare per forza. Prego. E visto che lei appartiene, no, sostiene comunque Ceriscioli in maniera indirettamente, se io le do un voto a lei va anche a Ceriscioli. No, nonostante quello che ha detto. Ma prima di questo mi colpisce il motto, che tra l'altro piace anche, periferia al centro. Ecco, poi le faccio la domanda, poi entriamo, ma velocemente mi fa capire, quindi, anche perché noi abbiamo dato voce, praticamente soltanto a candidati dell'entroterra. Sì. Ecco, quindi mi spiega questo motto, periferia al centro? Ha due valenze. La prima è generale, la seconda riguarda l'entroterra, vengo alla prima. Siamo periferie, tutti, tutti siamo periferie. Il cittadino è periferia. Il cittadino non conta più. Si è creato un oiato. Individuo, Stato. Quindi tutto ciò che può essere intermedio, società civile, non c'è più. Siamo periferie, bacino di voti. Noi veniamo cercati esclusivamente per un bacino di voti. E le sono sincera, neanche tanto limpido. Secondo punto, siamo periferia perché il nostro entroterra vive il contrario di ciò che auspicava Tonino Guerra. Tonino Guerra parlava di luoghi di luce, noi siamo luoghi di buio, noi siamo luoghi dimenticati, abbiamo delle mulattiere per raggiungerlo, quindi è inutile portare personaggi noti a vedere le nostre bellezze quando non è più una bellezza fruibile. Ok, ecco, io la interrompo un attimo anche per approfittare di questa cosa. Noi stiamo facendo una campagna per sostenere dei candidati dell'entroterra, perché troppo spesso si dà un voto per conoscenza, eccetera. Siccome i numeri purtroppo parlano, nel senso che la costa c'è dei numeri superiori ai nostri, noi avremo scarsissime possibilità di portare qualche rappresentante, adesso a prescindere dalle varie appartenenze politiche, in regione. Quindi, l'appello che noi facciamo, votate innanzitutto per chi volete, cioè lo facciamo noi personalmente, ma votate per l'entroterra. Poi l'altro appello che facciamo, prima di dare un voto, e votate un candidato, perché tanti altri errori mettono una X magari sul nostro, sul candidato e non vanno a votare, cioè sul candidato premier, e non vanno a mettere il nome del candidato, delle volte perché non sanno neanche chi è, neanche si sono informati. Ora voglio dire, un atto minimo, dedicare un'oretta, due, tre, della propria esistenza, quando è il momento delle lezioni, è una cosa importantissima. Cioè, andate sul nostro sito, dove ci sono delle interviste, come questa che stiamo registrando adesso, che sono molto esaudienti. Cioè, nel senso che, almeno conosci la persona, perché conoscerla in uno spot di un minuto, è una cosa, e in 30-40 minuti, qualcosina in più, diciamo, si capisce di una persona. Poi, se abitate vicino, che avete moda, contattate direttamente la persona, fategli le vostre domande, ecco, un po' come i suoi alunni. Ecco, detto questo, passiamo velocemente alla domanda retorica, ce la togliamo dalle scatole, poi entriamo nel vivo. Allora, la domanda retorica è questa. Praticamente, Traversini, che è il candidato di riferimento, o se vogliamo, il raccomandato PD del Montefeltro, in una dichiarazione, che noi che abbiamo su Facebook, praticamente viene sostenuto dalla maggior parte dei sindaci e dei vicesindaci. Ora, dal punto di vista delle regole, della legge, eccetera, probabilmente non c'è niente di anomalo, ma dal punto di vista etico, sicuramente sì. Cioè, un primo cittadino, eletto, pur che magari sia del PD, a parte che lo hanno sostenuto anche tantissimi primi sindaci, non del PD, a prescindere da questo. Cioè, qui hanno fatto delle liste civiche, dove spesso, anche monoliste in alcuni casi, cioè, praticamente comunque i voti sono arrivati da gente che la pensa, no, in qualsiasi modo. Le chiedo, è giusto, secondo lei, che un sindaco faccia una dichiarazione, cioè, così apertamente, singolarmente, come persona, ognuno potrebbe fare quello che vuole, ma quando tu sottoscrivi, non smentisci una dichiarazione del genere, cioè, come la pensa lei su questo? Guardi, lei ha toccato un punto, un po' di dolore, per quel che mi riguarda. Però, prima di dire quello che penso, vorrei fare una premessa. Io vengo dal mondo della scuola, sono un insegnante, quindi, quello che dirò non è perché abbia, chissà, quale mire, quali frenesie. So che l'entroterra è diviso e so che è difficile passare e io questa scelta l'ho fatta non tanto per gli esiti, ma per quello che sta portando avanti, poi magari, se avrò modo, glielo dirò. Sta generando delle relazioni. Quindi, non vorrei sparare un giudizio negativo perché ho qualche velleità o qualche mira ingenua, però, devo dirle che non ho gradito questa cosa, perché questa cosa è bruttissima ed è, come lei ha descritto, eticamente un pilotaggio un pilotaggio delle persone che non fa onore a nessuno. Non faccio distinzione di destra, sinistra e centro. È una modalità che è alquanto, come dire, pilotata e triste perché un sindaco è sindaco perché i cittadini l'hanno votato. Quindi non è che rappresenta se stesso. Però dietro questo c'è una logica di spartizione e le faccio, aggiungo, mi permetto di aggiungere una cosa, perché si vota il 31 maggio? Si vota il 31 maggio perché poi c'è un weekend. Si vota il 31 maggio perché non c'è questa volontà di preparare le persone o di conoscerle come lei sta dicendo, lei sta conoscendo me, io sto conoscendo lei. La relazione è morta. Quindi noi siamo bacino dimenticato di qualcuno. io questa cosa non la provo assolutamente ma non solo eticamente ma anche politicamente mi permetto di dire perché chi va in politica non ci va da solo a dietro qualcuno. Se hai poteri forti succede quello che dice lei. Se hai poteri deboli fa come me e tranquillo e sereno perché io sono molto serena e so che delle persone capiranno questo che sto facendo. Però è un gioco che non vale. si critica la prima repubblica ma forse questa è anche peggio. Io ho un simbolo da prima repubblica ma di fronte a questo ne vado orgogliosa. Ah non c'è dubbio non c'è dubbio guardi purtroppo in Italia tocca dire tutto noi invece di andare avanti stiamo andando indietro nel senso che o che bello hanno tolto le province io ho notato per l'abolizione e poi ce le tolgono in questo modo. Allora è meglio dire chiudiamo le regioni e tiriamoci le province però non abbiamo neanche potuto sperimentare il modo giusto di come dovevano togliere le province però mi permetto lei ha toccato se posso le province non metti in dubbio saranno state spese o che però io mi chiedo si taglia sulle province si taglia sulle ospedali si taglia sulle caserme siamo certi che tagliare sui posti intermedi sui punti intermedi non crei maggior scollamento siamo certi perché le competenze vede parlavamo prima della strada io parlavo della strada di mio padre Cantognere ciò che per lui era ordinario coprire una buca oggi è straordinario perché non si tocca più questo argomento ecco tra l'altro lei mi permette di dire ha fatto un bell'articolo sulle strade sì l'avevo fatto in tempi non sospetti in tempi non sospetti già questo mi libera noi invece abbiamo fatto proprio la guerra sulle strade proprio televisivamente parlandoli siamo riusciti anche a usare RTM il canale che noi diciamo fuori dalle lezioni mandiamo i servizi e ho apprezzato questo articolo che noi comunque adesso postiamo per i nostri amici poi è disponibile sulla sua pagina facebook la ringrazio guardi è nato con i ragazzi a scuola ecco devo essere sincera perché non si arrivava più a scuola ecco 30 minuti sembrano tanti no in realtà sono solo tanti se uno fa un discorso da solo se si interagisce qui il tempo vola che è una bellezza è piacevole ecco siamo già arrivati quasi un quarto d'ora già metà dell'intervista prego quindi ecco magari corriamo quindi allora le province ovviamente sono state fatte malissimo malissimo e adesso non ci sono i soldi per la viabilità e c'è chi dice parole per esempio dice riscioli che proprio sulle province dice che la colpa è come al solito c'è lo scarica colpe la colpa è della gestione precedente perché come infatti in Emilia sapendo che abolivano le province si sono messi da parte una certa quota finanziaria che va secondo me la colpa è di una cattiva politica che se non la cambiamo rischia di andare avanti esattamente alla stessa maniera questa è la nostra preoccupazione perché da una parte ci accusano di demagogia ma se noi andiamo a vedere i programmi delle persone più in vista sono delle vere opere di fantascienza abbiamo visto la barde spaziale i treni ad alte velocità abbiamo visto cose incredibili che francamente è un insulto è un insulto per la miseria dei nostri posti avremmo preferito dire le faccio a debito ma ti faccio le strade costi quello che costi posso dirle una cosa perché sta toccando dei punti io in questo periodo cerco nei ritagli di tempo di incontrare delle persone chiaramente mi hanno colpito mi ha colpito la cittadinanza di Cagli per esempio perché mi hanno chiesto di sollecitare su cose minime l'ampliamento della Flaminia per esempio perché vede la gente è più concreta io sono nata mio padre parlava della Piedemontana io ho 55 anni sta Piedemontana ormai infatti questa è una domanda che io con lei voglio toccare ecco parliamo di viabilità ecco ecco allora le persone chiedono le cose minime il necessario ho messo nel mio slogan dateci il necessario ecco chiedo scusa mi faccia dare lei ha parlato della Flaminia no? ha parlato della Piedemontana famosa Piedemontana che ormai è diventata no? storica c'è una di quelle cose un ricordo e poi c'è anche il discorso della E78 che a mio parere personale cioè come impostazione d'autostrada potrebbe anche non servire secondo me noi abbiamo bisogno di strade scorrevoli abbiamo bisogno di strada abbiamo bisogno di sette corsie caselle grazie è stato il tunnel da Lunano a Sant'Avano esatto esatto noi abbiamo una guinza lì abbandonata a se stessa ecco mi dica qual è e poi ecco l'ultima cosa mi azzettisco cioè gli entroterra hanno un problema enorme infatti la Piedemontana magari è anche rivisitata se vogliamo dovrebbe proprio il problema qual è che abbiamo bisogno da qui a Pergola dobbiamo arrivarci ci vuole un'ora ci vuole dobbiamo fare no salire e scendere mi dica la sua visione diciamo da questo punto di vista guardi non ho grandi competenze ma posso dirle una cosa incontrando le persone le persone vogliono non vogliono le superstrade non vogliono le autostrade non vogliono qualcosa di strategico vogliono il minimo le faccio un esempio a Macerata Feltri si aspetta il morto per mettere un semaforo perché c'è mezza strada che cade e dall'altra parte pure San Sisto è bloccata Cagli Cantiano è bloccata Monte Grimano non si passa cioè le persone vogliono veramente il rispetto minimo se tu devi trasportare un anziano devi trasportare un ammalato devi mandare a scuola dei figli e aggiungo con un po' una punta di veleno quanto costa mandare a scuola un figlio quanto costano i trasporti e allora il cittadino soffre un po' per questo e le dirò anche di più i nostri posti sono belli i nostri posti sono unici non hanno bisogno di quattro corsie anche per il turista hanno bisogno di corsie semplici noi abbiamo bisogno di un traffico regionale turistico non abbiamo bisogno certo di pensare la nostra zona come traghettamento da un mare all'altro non è la quadrilacera è brava quella è la scusa secondo noi demagoghi per portare soldi alle solite lobby chi segue un attimo la politica sa che ne fanno un te ne dicono una e poi sotto quella legge ci sono mille favori se uno segue un po' meglio i lavori parlamentari capita poi di rendersi conto che dietro ci sono dei favori le lobby eccetera quindi la E78 servirà solo per questo ora siccome la viabilità è direttamente collegata sia alla sanità e soprattutto se noi vogliamo avere quattro soldi perché non dimentichiamoci che purtroppo non abbiamo una lira siamo legati a questa speranza tutti aggrappati a questi famosi soldi che dovrebbero avere questa disponibilità non soldi che in casa disponibilità che dovrebbe arrivare dalla comunità europea allora il problema qual è? che in Italia in generale non siamo capaci neanche di fare progetti e riuscire a reperire questi soldi se li reperiamo non riusciamo a finire le opere e facciamo il piacere a qualcuno e abbiamo i costi il triplo rispetto ad altri insomma le solite porcherie all'italiana la domanda è questa non è che ci succede la stessa cosa e soprattutto perché noi sta a cuore l'entroterra saremo in grado di fare dei progetti per esempio anche sulle strade perché è l'unico modo che noi possiamo riuscire ad avere quattro soldi quindi fare i progetti abbiamo le persone nell'entroterra per poter fare dei progetti? io dico solo questo lei ha toccato il punto un punto di speranza e di come dire di rinascita perché si possa un po' risorgere io le parlo la vorrei affrontare da insegnante perché io sono un'insegnante e quindi vorrei affrontarla da qua i miei ragazzi vanno in America vanno a studiare in America tornano formati alle tecnologie sanno usare un computer hanno una vita virtuale molto più ricca ma emergono per le loro competenze noi le abbiamo noi le abbiamo queste competenze noi abbiamo un patrimonio il problema è un altro e qui vengo purtroppo agli enti locali i cittadini sentono scollati sentono scollati questi enti li vivono in maniera personalistica e si chiedono come mai non riusciamo ad avere accesso a questi fondi stanziati lì c'è un grande lavoro di formazione non si può scherzare ho sentito dei candidati che hanno detto diamogli ai sindaci no non sono d'accordo è una croce come può un sindaco che fa già tante cose ed è mal retribuito rispetto al regionale per non parlare del nazionale come fa ad avere le competenze anche per un accesso a un fondo del genere io ho avuto studenti che hanno lavorato su questo bisogna sapere le lingue bisogna avere chiaro una progettualità nei minimi termini io credo che però questo possa accadere per le nostre intotterra debba accadere però le risorse umane dovrebbero essere in loco e poi bisognerebbe essere un pochino meno disfattisti faccio un esempio è vero che gli enti montani le comunità montane non hanno funzionato però su certi punti hanno avuto delle eccellenze ad esempio nell'ambito sociale vanno riconosciute noi tendiamo in nome di personalismi di togliere tutto e il togliere tutto è difficile perché razionalizzare non vuol dire ordinare vuol dire togliere mi scusi ecco il problema qual è noi abbiamo anche delle persone competenti cioè il problema dell'unione montane piuttosto che la gestione non è che andiamo troppo lontani di una sanità il problema non sono i dottori o i dipendenti sono i politici cioè che spesso oltre avere incapacità perché i politici sono molto bravi a portare i soldi alla propria tasca detta chiara chiara o rafforzare il proprio potere che più o meno è la stessa cosa e magari anche sottovalutare delle persone assolutamente competenti sia nella sanità noi perdiamo i medici facciamo scappare i medici che poi dove finiscono finiscono nelle cliniche private magari anche delle regioni vicine dove questo sistema volutamente ti mette in condizioni che tu pagando sempre noi come regione ti vai a far la visita perché ovviamente devi aspettare un anno devi far questo devi far quella vai dallo stesso medico che magari ce l'avevi nelle tue strutture e te lo vai a raggiungere magari in Emilia piuttosto che in Toscana ecco lo stesso vale secondo me anche per quanto riguarda gli enti pubblici noi abbiamo dei bravi lavoratori io sono assolutamente contrario cioè io arrivo dal movimento 5 stelle no ma cioè quello che dico io è che è assolutamente sbagliato mandare a casa dei dipendenti validi perché se tu hai l'unione montana benissimo risparmiamo tagliamo le mandiamo tutti a casa e chi rimane i sindaci ma i sindaci non sanno fare questo tipo di lavoro diciamoci le cose fino in fuori quindi quando noi abbiamo delle persone cioè ci vuole il merito qui bisogna portare avanti il merito questo è un argomento non da poco perché sono insegnante vengo dalla buona scuola questo merito poi non dobbiamo lamentarsi ci ha diviso se se questi questi territori così con la scusa io porto avanti anche diciamo punti del suo programma non dobbiamo lamentarci poi se c'è omertà in questi territori lei è un insegnante quindi la cosa interessante è che la famosa educazione civica dovrebbe anche essere quella non so se tutti gli insegnanti lo fanno a invogliare i nostri ragazzi a svegliarsi perché noi noi gli abbiamo rovinato il futuro a questi ragazzi la colpa è nostra delle nostre generazioni perché noi in qualche ma diciamoci le cose fino in fondo sia io che lei in qualche maniera tiriamo a campare ci arriviamo alla pensione ovviamente se teniamo fisicamente ma loro no loro non hanno un futuro mi parli di lei che è insegnante che gli sta a cuore questa cosa e le giovani ecco mi dica come interagisce con i suoi giovani che cosa gli insegna e che cosa gli insegnano loro a lei allora guardi vi è un'emergenza educativa fortissima c'è uno scolamento totale ma più che altro la colpa è adulta me lo faccia dire questo la colpa è adulta io voglio molto bene ai miei ragazzi voglio il bene distaccato che può avere un insegnante perché un insegnante è quella che introduce nel mondo dei segni non è la mamma non è la psicologa è molto di più attraversa i codici del sapere in una certa unità io cerco ai miei ragazzi di insegnare loro l'unità della loro persona questo è come dire il punto principale e poi devo dire la verità sono abbandonati sono abbandonati sono anche loro boicottati come si diceva prima anche loro sono pilotati perché non ci sono politiche per i giovani i giovani vengono intrattenuti però mi creda i giovani sono di una bellezza e hanno delle grandi domande io sto molto bene con loro cresco con loro mi sento viva ma hanno bisogno di accompagnamento devo dire una cosa molto per me molto grande preferisco non parlare di un punto del programma e parlare di questo mi stanno aiutando chi lavora sulla pagina facebook chi mi fa una cosa chi mi fa un'altra io mi sento accompagnata questa è una commozione infinita valesse la pena questa esperienza per far nascere dentro un ragazzo una speranza io ho già vinto certo comunque sia voglio dire come vadano vadano le cose certo l'esito è una cosa molto lei mi ha colpito prima se non ho capito male mi ha parlato diciamo nell'ambito del sociale che devo dire che nelle campagne elettorali normalmente non fa trend invece a noi interessa moltissimo anche perché personalmente ho perso un fratello e diciamo sosteniamo un'associazione dove facciamo dei concorsi assolutamente gratuiti riservate ai diari si parla di sofferenza di psichiatria malattia mentale ci sono tantissimi problemi e c'è una sofferenza enorme enorme lei mi ha detto che accompagna le persone nei suoi ultimi giorni allora no io oltre a insegnare al liceo se non è un problema forse la faccio pagare le do cinque minuti in più per ricompensare la ringrazio io oltre che insegnare al liceo ho insegnato anche nell'Ips l'istituto socio-sanitario e ho avuto modo di seguire la disabilità gli stage di questi ostaggi diciamo come va moderno adesso di questi ragazzi quindi ho avuto modo di vedere che cosa significa avere a che fare con il dolore noi parliamo oggi di fioritura della vita e non parliamo più del senso della vita non dimentichiamoci che io vengo da un partito che ha radici cristiane quindi il discorso della dignità della persona della sussidiarietà per me è fondamentale ho avuto degli anziani in casa le strutture private costano tanto non possiamo permettercelo bisogna anche morire da ricchi punto di domanda oppure essere abbandonati e devo dirle che incontrando delle persone soprattutto una signora di Belforte che lavora nell'ambito mi ha detto che i tagli sono tanti enormi si taglia le invalidità allora io dico allora io dico questo a Cagli a Sasso Corvaro mi chiedevano il pronto il PP insomma il pronto intervento visto che non abbiamo più il pronto soccorso sulle 24 ore almeno senza arrivare alle ore 18 poi con l'ambulanza medicalizzata chiediamo questo chiediamo che per i servizi sociali ci siano investimenti ci siano fondi perché un ammalato deve stare a casa deve stare con l'affetto dei suoi queste cose le abbiamo dimenticate e le dirò una cosa che dà l'idea di tutto questo non si muore più in casa perché una persona non deve vedere morire un nonno questa è la morte della cultura infatti infatti allora c'è per esempio un discorso che a noi sta a cuore l'assistenza domiciliare degli anziani allora noi spendiamo un sacco di soldi e parcheggiamo parcheggiamo nelle lungodegenze gli anziani e spesso il personale in questi ospedali diciamolo pure ce l'abbiamo in tutti gli ospedali a lungodegenza sono di serie B di serie B nel senso non che il personale non è qualificato sono in pochi sono in pochi e parcheggiamo lasciamo magari anche un mese un anziano magari soltanto perché dovrebbe cambiare una sacchetta eccetera fare degli esami che volendo sono anche minimi se anche noi guardiamo dal punto di vista dei costi quanto quanto ci costa proprio una persona in una lungodegenza che ha dei costi più bassi rispetto ad altri reparti e questa stessa cifra cioè facessimo uno studio per verificare se noi potremmo dare questa assistenza a domicilio oggi si possono fare tantissime cose a domicilio siamo sicuri che ci costerebbe di più o forse scopriremo che magari ci costa persino di meno o diciamo uguale e io penso che l'anziano perché diventeremo tutti anziani vuole morire a casa propria cioè quando tu prendi una persona gli dai la possibilità di stare a casa sua cioè questa persona tu gli allunghi la vita anche se in una situazione di sofferenza ma poi qual è il suo punto di vista deve vedere i ragazzi del corso os come sono bravi con gli anziani nelle strutture dove vanno l'RSA di Macerata o tante altre adesso Massaioli sono tante Carpegna ci sono le suore i ragazzi che vanno crescono fanno poi il loro diario e quindi raccontano c'è un impatto lì con la vita col dolore con la cura con la relazione dell'altro quindi è altamente formativo e nello stesso tempo io ho visto per esempio anche a Carpegna su questo devo dire che l'ambito della ex comunità montana ha funzionato bene perché non bisogna sempre massacrare c'è stata un'attenzione al cittadino al malato in casa e ha portato grandi frutti sono d'accordo con lei noi fuggiamo per paura di vivere anche il dolore è verissimo è verissimo adesso per ovviamente di sanità cioè si potrebbe parlare un'intera trasmissione due cose chiedono i cittadini dell'entroterra sanità e viabilità sono molto semplici e sono direttamente collegati perché allora vuoi mettermi l'ospedale unico va bene ok allora tu fai in modo allora si che mi servono le quattro corsie me le fai raggiungere a 130 km orari mi fai la strada bisogna stare molto calmi personalmente secondo me valido nella sanità potrebbe essere questo cioè noi abbiamo parecchi no parecchi ospedali ormai che ce li spengono piano piano no li chiamano tic tac tac piano piano case della salute brava queste maledette vabbè case della salute eccetera ma se ci fosse stata una gestione coerente coerente ora parlare di come si dice reparti come si dice mi sfugge la parola di eccezionale cioè ecco parlare di reparti di eccellenza non è possibile perché devi avere dei numeri però se noi riuscissimo a trasformare i reparti di questi ospedali interni specializzati cioè che ne so adesso vi dico una cosa qua in quell'ospedale X ci andiamo a curare la spalla e avremo dei bravi medici no ma ci vanno anche quelli della costa cioè se io devo fare un intervento al cuore importante vado a Milano vado a Bologna potrei andare a Pesaro cioè o piuttosto che da un'altra parte quindi cioè se vogliamo se non ci sono soldi e dobbiamo per forza no rimettere in sesto la sanità si potrebbe anche cioè usare anche questi ospedali secondari chiamiamoli così che abbiamo specializzandoli su degli argomenti specifici quindi cioè lo stesso ospedale di Pesaro io magari gli darei delle competenze maggiori su altre cose ovviamente il pronto soccorso eccetera quello va tenuto in saldo come la vede lei su questo? guardi io voglio essere un po' polemica sta 735 questa riforma della sanità nessuno ne vuole la paternità tantomeno spacca che era comunque colui che rappresentava non lo conosco e non voglio esprimere giudizi sulla persona però sul ruolo qualcuno si è mosso per dire che questa riforma va rivesta lo stesso Ceriscioli auspica una revisione e me lo voglio augurare perché questa è una promessa grossa questa è una promessa grossa promessa viabilità e promessa sanità è una promessa sulla quale ti giochi e la tua candidatura ma la gente la gente dimentica ecco ma la gente dimentica io credo che abbiamo come dire perso tutto nel nostro introterra e quindi ho sottoscritto almeno verbalmente poi si può fare anche di più queste piccole richieste quelle di un'eccellenza che diceva lei ad esempio la senologia Cagli da noi poi abbiamo Montefeltro Salute ci sono delle eccellenze è chiaro che quando uno ha bisogno va fuori io stessa ho avuto un grosso intervento l'ho fatta a Milano chiaro non l'ho fatto a Sasso Corvaro però voglio dire tutto ciò che noi abbiamo come patrimonio come un'eccellenza la dobbiamo mantenere però guardi io insisterò molto se sta cosa va avanti e se non va avanti insisterò lo stesso sul pronto intervento per 24 ore con un laboratorio analisi perché è necessario un laboratorio analisi e con medici che ci sono perché noi non possiamo pensare dalle 18 in poi di essere sbalottati in ambulanza arrivare a Urbino dove l'attesa è lunga e l'educazione è scarsa se io fossi avessi davanti mezzolani gli farei una domanda idiota probabilmente mi prenderei dell'idiota stesso ma la domanda è molto semplice per quale motivo devo aspettare un anno per farmi un attack quello che è cioè per quale motivo io poi vado in una clinica privata non pago convenzionata non sto parlando a pagamento convenzionata e me la fanno in 15 giorni ora non siamo in grado non siamo in grado magari anche in uno di questi ospedali periferici eccetera di poter cioè seguire la stessa identica regola di un privato probabilmente sì però allora avremmo un personale idiota della gente incompetente cioè ha capito ci sono due punti qui lei ha toccato pubblico e privato pubblico e privato non collaborano o si fanno la guerra ma non è che collaborano per far venire alla fine un beneficio per tutti questo è il primo punto il secondo io penso che sulla sanità è uno di quei la sanità è uno di quegli argomenti che è stato veramente trascurato sulla pelle del cittadino ma volutamente attenzione almeno se noi abbiamo 10.000 amministrativi cioè il doppio degli infermieri cosa fanno questi 10.000 sembrano un po' troppi li vogliamo magari mandarne un po' a casa e teniamo invece infermieri e dottori cioè quello che c'è bisogno questo accade anche nella scuola lo sa perché negli anni lo sa perché c'è un parallelo nella scuola negli anni 80 è iniziata una gran sperimentazione dentro di tutto di più abilità competenze tutti i professori moduli sette maestre per cinque bambini adesso si taglia e si riduce è una cattiva sperimentazione e quindi quando noi abbiamo vissuto sopra le righe e abbiamo fatto finta di essere tutti belli bravi ricchi e adesso paghiamo le conseguenze le pensioni baby e un'altra cosa si potrebbe proseguire per l'altra misura infatti allora io prima di farle la domanda quella per quale motivo se ce lo vuol dire la dovremmo votare se c'è qualche altra cosa perché il tempo vedo che tiranno che magari ci sono altri punti che non abbiamo toccato del suo programma però se magari c'è qualche cosa che ritiene che proprio bisognava dire ci pensi un secondo guardi io vorrei dire due parole se no ce lo dice per quale motivo la dobbiamo ah prego vorrei dire due parole sull'immigrazione perché l'immigrazione è subito è un argomento è una questione subita qui c'è la volontà nazionale internazionale europea la incapacità politica di mettere mano a sta cosa i padri fondatori no Schumann Adenauer cioè io ho in mente questa Europa e voglio pensare che non sia un'Europa ad una prof che la pensa ma che sia qualcosa di più invece mi devo ricredere la troica europea penalizza l'Italia no ecco allora nei piccoli paesi cosa c'entra sto discorso c'entra perché noi viviamo di turismo ci arrivano gli immigrati e la gente ha la rabbia non dobbiamo pensare che sono tutti tra virgolette talebani e tutti violenti le persone sono stanche sanno che dietro l'immigrazione ci sono dei business si lucra anche lì che la solidarietà cristiana va insieme a una gestione poco cristiana e allora io questa cosa qui vorrei dirla vorrei dirla perché le persone soffrono questo è uno dei punti che mi invischia un po' ok va bene non rimane altro che farci l'appello per quale motivo la dobbiamo votare mi votate se mi conoscete credete a quello che io posso portare avanti e votatemi solo se mi aiutate poi a portarle avanti insieme perché io non faccio grandi promesse sono ideologiche però la politica non è solo discariche spazzatura proviamo a ripartire grazie